salva di val gardena attenzione attenzione quasi incidente siamo partiti in direzione dell'altra valle adiacente di cui non sappiamo il nome ad un parcheggio che si chiama se col raiser col raiser molto cattivo di questo parcheggio che anche l'inizio di una funivia o di qualcosa del genere dal quale decideremo poi cosa fare anche perché abbiamo passato l'ultima ora a decidere il programma del pomeriggio della serata e ancora non abbiamo stabilito con certezza indicazione col raiser che non si sarà letta probabilmente però fase di preparazione perché evidentemente dormiremo stasera in tenda su montagna senza andare a cercare un parcheggio non lo so vedremo speriamo siamo carichi sarà un'esperienza per la testa abbiamo un nuovo via sopra la testa che ci fa un po' gola però noi andiamo pausa aneddoto semi tragico abbiamo visto un signore 83 anni che poverino gli sono cedute le ginocchia scendendo giù abbiamo soccorso abbiamo aiutato a sedersi su una panca perché davvero stava cadendo è stata una brutta scena fortunatamente tutto bene siamo riusciti ad accompagnarlo la panchina adesso sta aspettando a che qualcuno lo venga a prendere però ha rischiato ha rischiato molto camminata di ieri tra le rocce quella di oggi nel verde quindi direi ottima ottima scelta di percorsi un po' casuale forse però è bello si è cambiato quindi il terreno è nato a 2.000 metri attenzione il raghetto molto scenografico bene sono il sole sempre abbiamo fatto la pausa abbiamo fatto il biscotti alla carnella siamo carichi e facciamo un pezzo che cosa del rifugio Firenze attenzione eccolo il rifugio 2040 metri sopra il livello del mare, questo è il panorama. Eccoci nella selvaggina dell'Alto Adige a cercare un punto dove mettere la tenda perché come preannunciato stasera sarà una nottata più wild dove cercheremo di dormire nella natura senza alcun campeggio e il Sam ci informa da laggiù che c'è uno spiazzo perfetto per la tenda, andiamo a vedere se è la verità. Sam, sei in diretta, esponici la location di cui non sappiamo il nome. Questo è il posto disegnato per me. Ed è quello ciò che ci interessa.